si è da poco concluso l'evento dell'otto marzo di apple ho seguito molto attentamente questo evento perché avevo delle speranze che poi sono state totalmente disilluse però di roba interessante ne è stata mostrata è stato mostrato il nuovo iphone se che monterà la 15 bionic lo stesso di iphone 13 per intenderci utile non utile non è questo il momento di parlarne è stato mostrato il nuovo m1 ultra che verrà montato sul nuovo mac studio e sarà una sorta di dual processor con praticamente due processori m1 max che lavorano insieme qui si vede ancora una volta l'ottima modularità di questo processore e però anche in questo caso non è un dispositivo che può far per me oggettivamente è un dispositivo talmente potente talmente peculiare che non lo vedo adatto neanche a usi professionali per quanto riguarda il mondo dell'editor video dell'editing video o del dell'elaborazione 3d e quant'altro cioè io vedo quel prodotto proprio come qualcosa per le grosse produzioni stiamo parlando comunque di un dispositivo che nella versione con l'm1 ultra base supera 4000 euro quindi bellissimo sì ma so che resterà un sogno inespresso della mia vita perché sinceramente non è un investimento che mi sentirei mai di fare perché non ne troverei un reale utilizzo personalmente speravo in un mac mini con processore m1 pro non dico le m2 perché sarebbe stato secondo me sbagliato per apple inserire ora le m2 che sarebbe meno potente delle m1 max delle m1 pro ma più potente delle m1 cioè avrebbe creato confusione secondo me quando uscirà le m2 dovrà uscire m2 con tutta una serie di processori nuovi quindi non avevo quella speranza non avevo neanche quella necessità però mi sarebbe piaciuto avere un mac mini quindi dai costi relativamente contenuti con un processore m1 pro perché perché mi è tornata quella voglia spasmotica di avere un pc fisso quello però su cui mi vorrei soffermare un attimo anche perché è un prodotto che sto seguendo da un po di tempo è l'ipad è stato mostrato il nuovo ipad air che monta il processore m1 lo stesso che monta ad esempio l'ipad pro lo stesso che monta il macbook air il macbook pro da 13 pollici il mac mini insomma m1 il processore che ormai da un paio d'anni abbiamo imparato ad amare e conoscere molto bene la mia domanda è a cosa serve questa riedizione innanzitutto capisco che sicuramente il pro verrà aggiornato nel corso dell'anno perché non ha assolutamente senso per un'azienda avere un prodotto di fascia media è un prodotto di fascia alta che montano lo stesso chip che montano praticamente lo stesso hardware e che alla fine dei conti l'unica differenza sta nel pro res ovvero l'aggiornamento a 120 hertz del monitor presente solo nei dispositivi quindi presumo che verso la fine dell'anno probabilmente verrà mostrato un nuovo ipad pro con processore che so m2 m1 pro non lo so comunque dubito fortemente che rimarranno su questo livello era successo anche prima che venisse introdotto m1 su ipad pro proprio all'epoca mi ricordo che quando uscì l'air montava praticamente lo stesso chip del del pro quando erano ancora con la nomenclatura quelli da dispositivi portatili che però poi appunto fu aggiornato quindi la differenza poi c'è stata il problema resta sempre uno ma questa differenza di prestazione a cosa mi serve se non si riesce a tirare fuori un sistema operativo dedicato a questi processori m1 perché continuare ad aumentare la potenza di un prodotto che a causa del proprio sistema operativo per quanto mi riguarda continua a essere limitato nella produttività io non mi sento minimamente di cambiare i miei dispositivi laptop con un ipad fosse anche un pro con m2 perché è troppo limitante è troppo ancora rilegato a un utilizzo mobile troppo rilegato alle app non ha un kernel insomma io continuo a vedere apple che continua a rincorrere questa potenza ok rendering più veloci nelle app di photoshop di montaggio eccetera eccetera ma poi in soldoni tutta questa potenza a cosa mi serve se poi io comunque devo avere un dispositivo come un pc in casa perché con l'ipad non riesco a essere soddisfatto a 360 gradi tanto vale che mi prendo un laptop come si deve e continuo ad utilizzare i vecchi ipad infatti ho questo vecchio ipad del 2018 a mia discolpa dico che la cover la scelta la mia ragazza che fu praticamente il primo ipad base di gamma che dava la possibilità di utilizzare bella botta che dava la possibilità di utilizzare l'apple pencil io onestamente non vedo perché cambiarlo perché in fin dei conti quello che gira qua gira anche là e capisco che la gira meglio tutto quello che volete ma non mi sento di investire dei soldi che sono partono dai 600 euro per layer per un tablet quando con una cifra decisamente minore faccio le stesse cose con ovviamente meno prestazioni e ripeto il fattore prestazione può essere una fortissima discriminante ma qualora questo dispositivo non mi servisse solo ed esclusivamente a modificare le foto su photoshop dei file raw della fotocamera insomma non è ancora maturo però mi si apre uno scenario perché montare l'M1 su air e l'M1 sul pro poi si vedrà l'aggiornamento questa è un po una provocazione e se questo fosse un primo passo per diversificare veramente il mercato pro m1 dal mercato con 13 eccetera eccetera se veramente finalmente loro hanno buttato una prima pietra per dire ok da ora in poi avremo un base di gamma e un top di gamma con processore m1 con un sistema operativo dedicato e un mini e un ipad ipad per esempio 2023 che monteranno il chip a 13 bionic che continueranno con il classico ipad os questa è l'unica cosa che potrebbe effettivamente risollevare le sorti di un prodotto che a mio avviso ancora oggi per quanto migliora l'esperienza dei basi di gamma non trova realmente un proprio mercato perché ripeto non può essere considerato un dispositivo unico e io onestamente per avere un tablet strapotente ma che poi utilizzo per vedermi comunque i film su netflix e quella roba lì perché dopo che ho modificato la foto effettivamente non ho una produttività così estesa beh torno e resto col mio ipad 2018 che va più che bene però ripeto qualora si volessero diversificare questi due segmenti allora potrebbe essere veramente una sorta di cambiamento epocale è l'unica cosa che mi ha fatto pensare questo m1 air col processore m1 appunto ipad air col processore m1 appunto è questa cioè il fatto che poi con l'introduzione del nuovo ipad pro si possa veramente diversificare ma a livello proprio di sistema operativo i due ambienti poi possiamo fare il solito discorso che è ma a quel punto poi non venderebbero più laptop eccetera eccetera non credo non credo che sarà così perché comunque sembra strano ma ogni persona ha i propri gusti ed esigenze quindi non si andrebbero secondo me a cannabis e non si andrebbero a mangiare tra di loro non andrebbero in conflitto quindi purtroppo ancora una volta resto con l'amaro in bocca di un ipad che sarebbe potuto essere tremendamente interessante ma che fondamentalmente per quanto mi riguarda continua a non colpirmi finché non migliorano questo sistema operativo questa era più o meno la mia considerazione le mie quattro chiacchiere di oggi fatemi sapere se questo nuovo format vi piace se avete degli argomenti in particolare del quale vi piacerebbe ascoltare i miei vaneggiamenti come sempre vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo con un prossimo video sperando che entro la fine dell'anno apple tiri fuori questo mac mini con processore m1 pro ne ho proprio voglia voglia di pc fisso strano ma voglia di pc fisso